Jingle bell, jingle bell Jingle, jingle all the way Zitte, ehi! Che c'è? Ma... Oh, mio Dio. Mamma, mamma, no, non andare. Oh, mio Dio, non ci posso credere! Ciao, mamma. È Ben! Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!